Io sono Gabri Costa, in questo Tekken 7 con gli episodi personaggio, ora è arrivato il momento di vedere la nostra Master Raven che sconfiggerà Dragunov, il russo. È fortissima Master Raven. Mi sa chi ha vinto, è la vincitrice Master Raven. Ok, vi saluto, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace. Ciao a tutti.